Ok ragazzi, vi ricordate di quei quattro aeroplani di Lushin 76 da trasporto strategico che secondo la TASS sono rimasti solo leggermente danneggiati da un attacco dronico ucraino? Ebbene, ora possiamo valutare i leggeri danni osservando un'immagine satellitare. Vedendo il video registrato dal governatore locale che si è precipitato letteralmente all'aeroporto per rassicurare i suoi cittadini circa lo stato degli aerei e osservando la fusoliera salvata da un'eroica squadra di pompieri. Io già immagino la scena. Tranquillo Shoigu, basta una mano di vernice e torna a volare come prima. Ma sì, al massimo ci diamo anche una scarta vetratina, ma solo perché me lo chiedi tu. E la scena, secondo me, se la immagina anche Solojov, perché guardate che cos'è arrivato ad affermare. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Noi non sappiamo da dove arrivano i droni. Che cosa sta succedendo? Davvero noi non sappiamo come vengono costruiti, dove vengono consegnati, dove vengono tenuti. O da dove vengono lanciati. E se non possiamo gestire e fronteggiare dei droni, come possiamo gestire e affrontare degli F-16? In effetti, se non riuscite a gestire un attacco di droni nel cuore della grande madrepatria russa, che cosa potrà mai andare storto? In realtà si tratta solo di quattro aeroplani distrutti e due danneggiati. L'esercito russo, o meglio l'aviazione russa, dispone di centinaia di altri aeroplani dello stesso tipo. Per cui il danno è sì rilevante, ma certamente non grave. In compenso, i russi, grazie a questi attacchi sul loro suolo, si sentono un pochino meno sicuri. E sono decisamente un pochino meno spavali. Lo stesso Soloyov, che è un propagandista fatto e finito e medagliato anche da Putin in persona, la domanda su come potrà l'esercito russo o l'aviazione russa gestire gli F-16 ucraini, infatti se la pone. Tuttavia, sventuratamente per lui e per tutti gli altri propagandisti russi, non sembra essere in grado di elaborare questo pensiero, arrivando nel proseguo della trasmissione a citare i soliti luoghi comuni. Massiva attacca di spavali per gli obiettivi russi. Pskov, che è in realtà? Siamo riusciti a un po' di domande evidenti. Un pesante attacco di droni contro obiettivi russi. Che cosa è successo a Pskov? Affrontiamo il problema nella sua integrità ponendoci diverse domande più piccole. Pskov, questo è in grado di Nato. Il confine con la Nato è vicino. Tecnicamente è più vicino il confine con due dei tre paesi baltici. La Nato non è una nazione, non ha un confine suo. Da dove sono stati lanciati i droni? Dall'Ucraina? Non credo. Ragazzi, Soloyov fa pure finta di pensarci su per creare suspense. O forse deve solo fare minutaggio. S territori prebaltici, unicciutite n***o prebaltico e città. Dai paesi baltici? Se è così, i paesi baltici devono essere distrutti. Sterrete il liceo a земle! Devono essere cancellati dalle mappe. In effetti, Vladi ha già fatto riscrivere i libri di storia. Se vuoi dare una giustatina anche a quelli di geografia, non c'è problema. Ce lo chiede anche la Cina, ha detto fra parentesi. Ah, no. Non sono stati prebaltici? Da un gruppo di ricognizione e sabotaggio? Questo gruppo veniva dagli stati baltici? Se è così, dobbiamo colpire gli stati baltici per vendicarci. E se sono passati da lì, perché nessuno se ne è accorto? Non sono stati notati? Sono certo che le autorità competenti stanno già lavorando su questo caso. Ne sono certo anch'io. Anzi, sono praticamente sicuro che l'FSB il caso lo ha già risolto. Fammi fare una telefonatina. Ivan, allora, ti decidi a estrarre quei cinque nomi a caso dall'urna, oppure devo venire lì io? Perché i servizi di sicurezza si attivano dopo che è successo il disastro e non prima? Significa che mancano di forza, volontà e autorità. Lasciate la mano libera alle forze dell'ordine, alle forze di sicurezza. Nаконец, vossosdate SMERSH! E alla fine, se dovete, ricreate anche la SMERSH! La SMERSH era un'organizzazione segreta sullo stile del KGB, ma sotto steroidi è molto, molto più cattiva. Se l'attacco è stato portato avanti da territori della NATO, allora questa è una dichiarazione di guerra della NATO contro la Russia. Questo significa che la risposta deve essere immediata e deve prevedere anche una risposta nucleare. Ne abbiamo già parlato tante volte. Ok, mentre il professor Orsini va a nascondersi sotto un tavolo per questa minaccia nucleare, ricapitoliamo un attimino la situazione. L'aviazione russa non solo non è in grado di intercettare dei droni ucraini che colpiscono un suo aeroporto militare, ma non è neppure in grado di dire da dove questi droni siano arrivati. Una struttura militare russa non è in grado di gestire una minaccia portata avanti probabilmente con dei droni da poche migliaia di euro acquistati su Wish. E tu, Soloyov, vorresti entrare in guerra con la NATO? La stessa NATO che ha a disposizione gli F-22 Raptor, gli F-35 Lightning, i Gripen e i Mirage? Sei serio? E davvero pensi che ci sia ancora qualcuno, a parte il professor Orsini naturalmente, che ti prende seriamente quando parli di scatenare una guerra nucleare? In Occidente qualche unità Aegis per intercettare i missili nucleari c'è in Russia? E poi, Soloyov, ma soprattutto voi, grandissimi figli di Putin che ogni tanto capitate su questo canale. Vi siete mai chiesti a cosa porta lasciar mano libera alle forze dell'ordine e soprattutto a quelle di sicurezza? Porta risultati come questo. Quest'uomo è un cittadino russo che ha un figlio gravemente malato. L'anno scorso la sanità russa rifiuta di dare un farmaco particolarmente importante per la salute del bambino. Il padre ricorre in tribunale, vince la causa, lo stato russo viene condannato a somministrare il farmaco, ma non lo fa. Qualche giorno fa, a distanza di circa un anno dalla sentenza, quest'uomo esasperato si reca sulla piazza rossa, la piazza del Cremlino, e protesta mostrando un cartello. Passano neanche dieci minuti che i poliziotti lo arrestano. Arrestano il padre di un bambino perché stava manifestando con un cartello affermando che lo stato russo non aveva concesso al bambino i farmaci che erano dovuti. Davvero c'è qualche figlio di Putin o qualche orsetto del cuore che vuole vivere in uno stato del genere? Quando gioite leggendo le veline diffuse dalla tasse dall'Ariano Vosti, oppure vi guardate avidamente i video di Lilin e del professor Orsini, e vi scaldate il cuore sentendo come la Russia è grande e forte, pensate anche a queste storie qui. Pensate se davvero questo è il mondo nuovo che volete. Ma per fortuna che a differenza vostra c'è qualcuno che vuole cambiare la Russia. Lui è Gyrkin Strelkov e non dovrebbe avere bisogno di presentazione. Infatti in Olanda è ricercato per strage, avendo dato l'ok all'abbattimento di un volo civile l'MH-17 della Malaysian Airlines con 298 persone a bordo, i suoi sgherri che si facevano le foto ricordo fra i rottami e i cadaveri, e in Russia invece è finito dietro le sbarre per aver dato del pidocchio a Putin. Ebbene, quest'uomo ha deciso di sfidare Putin per la presidenza della Federazione Russa alle elezioni che forse potrebbero tenersi nel 2024, se Putin ha voglia e avanza tempo. E no, non è una battuta. Circa un mesetto fa, Peskov ha detto che le elezioni in Russia non sono poi così fondamentali perché sicuramente Putin vince a bani basse e la responsabile dell'organizzazione delle elezioni ha detto che queste potrebbero essere una spesa del tutto superflua ed evitabile per i contribuenti russi. Ma analizziamo immantinentemente tutti i motivi alla base dei quali Gherkin si crede di poter essere un presidente migliore di Putin. Putin, secondo Gherkin, è un grandissimo incompetente in questioni militari, mentre lui, che è riuscito ad abbattere un aereo civile con 298 persone a bordo, è molto più schillato in tema. Putin è troppo ingenuo. Si è infatti fatto prendere per il naso letteralmente da tutti, passi per Trump e Obama, che sono americani, ma è pure stato imbippato dalla Merkel e da Zelensky. Putin avrebbe dovuto andarci giù pesante già nel 2014. Se l'avesse fatto e avesse attaccato militarmente tutta l'Ucraina invece di limitarsi al Donbass e alla Crimea, a quest'ora la linea del fronte sarebbe ad almeno 10, forse 15 chilometri più avanti. Vladimir Putin è troppo gentile, anche nei confronti della sua stessa madrepatria. Insomma, ha una guerra da combattere. Perché ha fatto una mobilitazione da soli 300.000 uomini quando poteva portarne al fronte un milione e mezzo? Perché non ha convertito tutte le industrie dalla prima all'ultima per produrre materiale militare? Putin è troppo morbido e forse ha pure un pigiama rosa. Putin poi è troppo generoso con gli amici, non sa dirgli di no e sventuratamente buona parte dei suoi amici sono oligarchi. Questi oligarchi fanno quello che vogliono con i nostri soldi, principalmente portano agli estero gli utili e alla patria non danno un bippo di nulla. Poi Vladimir Putin, secondo Gierkin, è di parola e mantiene la parola data a qualunque costo, anche a spese dello Stato russo. Gierkin invece si vanta di essere più bippardo inside e di poter venire meno alla sua parola se la situazione lo richiede, ma solo nell'interesse della Russia. E infine Gierkin ha 20 anni in meno rispetto a Putin e quindi ci sono più probabilità che lui resterà in salute per molto più tempo rispetto all'avversario. Evidentemente l'ingenuo non ha ancora capito che cosa succede agli avversari di Putin. E a proposito, abbiamo una scena post-credit che riguarda il mitico Prigosi. Vediamola insieme. Per tutti coloro che si domandano se sono ancora vivo oppure no e come mi sento. E il fine settimana nella seconda metà di agosto 2023. E mi trovo in Africa. E così a tutti gli ammiratori che si fanno domande sulla mia morte, sulla mia vita intima, sui miei guadagni, rispondo che sto bene. Ora, questo video può contenere due o tre semplici battute, ma in realtà, personalmente, lo ritengo relativamente importante, perché Prigosi non a caso fa riferimento ai suoi guadagni. Oltre che, naturalmente, alla sua salute. Quando ha registrato questo video, la Wagner era sotto attacco, ma non da parte dell'esercito convenzionale russo con metodi convenzionali. Era sotto attacco, ed è tuttora sotto attacco, perché l'esercito russo da una parte, la Rosgardia dall'altra, e delle società militari private vogliono ottenere i contratti della Wagner che sono stati stretti in Africa. Come abbiamo già precisato l'altra volta, la Wagner operava a nome per conto dello Stato russo. Adesso che la Wagner è caduta in disgrazia, c'è letteralmente un miliardo di dollari equivalenti in contratti da ottenere. E tutti, dico letteralmente tutti, vogliono una fetta di questa ricchezza. Il dato, peraltro, è trapelato anche dalle intercettazioni di ciò che resta del gruppo dirigente di questo esercito privato, di questa società militare privata. Perché questo gruppo dirigente ha iniziato a chiamare gli altri dipendenti, slash mercenari, per informarli che al termine delle loro vacanze forzate probabilmente resteranno tutti disoccupati. Chiudiamo infine il video con un velocissimo aggiornamento sulla situazione militare. Iniziamo col dire che la Germania e i tedeschi hanno donato agli ucraini altro equipaggiamento e altre armi. Come potete notare, si tratta di una donazione piuttosto sostanziosa che può contare su ben 38 carri armati Leopard, 40 Marder e 50 Dingo. Per il resto, gli ucraini stanno ingaggiando con apparente successo i russi all'altezza di Vervove, un villaggio a sud-est di Rabotine. Ci sono infatti alcuni video che non posso mostrarvi perché YouTube è allergico a certe scene, a certi soggetti, ma fidatevi, gli ucraini apparentemente stanno avanzando e stanno prendendo posizioni russe. Tra l'altro, analizzando questi video, pare vincersi che effettivamente siano arrivati nell'area anche i VDV, ma che questi non riescano a ottenere troppo successo. E questo lo sappiamo perché in alcuni video i soldati ucraini mostrano gli effetti personali di queste presunte forze d'elite. In quest'immagine, per esempio, vediamo un pasto liofilizzato da truppa aviotrasportata. La triste realtà per Putin è che i VDV potranno effettivamente essere meglio addestrati ed equipaggiati rispetto al soldato russo medio, ma non sono in grado di fare miracoli. Inoltre, se tu li mandi sempre all'assalto con la scusa che sono forze speciali, questi a ogni battaglia verranno decimati e perderanno naturalmente quell'insieme di competenze che gli hai fornito all'inizio e che magari sono riusciti a maturare di battaglia in battaglia. Il resto del fronte è apparentemente congelato e i russi in questa guerra di attrito continuano a perdere centinaia di uomini al giorno e decine e decine di veicoli. Resta solo da chiarire un ultimo punto. Per quale motivo è così importante che gli ucraini riescano a prendere rabotine come peraltro l'hanno già presa e magari arrivare ancora a qualche chilometro più a sud? La risposta è semplicissima. Se gli ucraini riescono a mantenere, a mettere in sicurezza la posizione di rabotine e magari prendersi qualcosa un pochino più a sud e naturalmente mettere in sicurezza anche quello, potranno poi utilizzare le loro armi a lungo raggio per neutralizzare la catena logistica dei russi. E a quel punto superata la seconda e la terza linea di difesa potranno avanzare in maniera decisamente più spedita e con un po' di fortuna raggiungere dei risultati pratici, concreti e visibili prima della stagione delle piogge o comunque dell'inverno e del blocco delle attività militari. E voi che cosa ne pensate di tutto questo? Come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi il canale vi piace valutate l'opportunità di diventare un Patreon o in alternativa iscrivetevi attivate la campanella condividete i link con gli amici che sono interessati a questi argomenti e naturalmente lasciate il mi piace di ordinanza sotto il video. Per voi sono solo pochi click e per il canale significano molto. E infine se non farete tutto questo in un futuro alternativo improbabile decisamente remoto potreste ritrovarvi come consigliere comunale Ghirkin. Io vi ho avvisati poi fate voi. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto.